Se l'ha espertava questa vittoria? Abbiamo lavorato per questo, io ringrazio tutti, ringrazio lo staff innanzitutto, ringrazio tutti i consiglieri comunali, il partito, tutti i partiti che vi hanno sostenuto, ringrazio tutti i militanti, coloro che ci hanno creduto e tutti i cittadini le cesse. Una bella vittoria di tutto il centro-sinistra, certamente il pensiero Valtano Salvevini che vorrei incontrare e abbracciare, non so se è dentro ma lo farò immediatamente, lo chiamerò se non è qui, ovviamente con tutti i suoi sostenitori perché questo è il centro-sinistra unito che deve vincere, abbiamo preso la rincorsa, ora l'amministrazione di centro-destra ha la sfida più ampia che poteva immaginarsi. Il messaggio lo dici? Ma adesso abbiamo finito l'epinaria, ora cominciamo a lavorare per allargare al massimo con tutti i cittadini leccesi la nostra alleanza, a stringere un patto con tutti loro, poi le forze che vorranno avvicinarsi a noi troveranno dialogo e troveranno confronto, ma ora è una vittoria del centro-sinistra, del centro-sinistra. Grazie.